Salvini è il ministro dell'interno, il ministro della Repubblica italiana e credo che ci sia e ci sarà sicuramente un giorno in cui ci incontreremo e soprattutto quello che andrà chiesto a Salvini è di entrare in una fase concreta e sono due le cose principali sulle quali mi soffermerei, uno di finirla con un concetto di integrazione che è stata fallimentare portata avanti da molti governi sia di centro-destra e centro-sinistra, cioè quelli dei centri di accoglienza straordinari. Noi a Napoli siamo pronti invece di fare la vera integrazione dove tutte le persone che vivono qua hanno stessi diritti e stessi doveri, si sentono parte integrante di una comunità e poi il tema delle forze di polizia e poi il tema della lotta alle corruzioni, alle mafie, alla sicurezza. A Napoli c'è bisogno di più personale delle forze di polizia, quindi io anche con Salvini non è un incontro certo politico perché le posizioni sono inconciliabili sul piano politico, ma bisogna andare a parlare di fatti istituzionali, quindi ci sarà sicuramente un giorno in cui avverrà, immagino, anche questo incontro.